Sono sempre tantissime le segnalazioni che arrivano all'indirizzo email contributiweb chiocciolateleliberta.tv da parte sia dei telespettatori di Tele Libertà sia dei lettori del sito www.liberta.it ultimamente ne sono arrivate parecchie da via Penitenti, zona farnesiana proprio a ridosso della tangenziale gli residenti lamentano innanzitutto l'incuria a un cattivo stato delle strade e dei marciapiedi anche il verde poco curato, non manca chi proprio a causa di questi problemi ha avuto anche dei danni Io sono già caduta tre volte con i marciapiedi, specialmente lì dove c'è la catena io sono invalida e devo stare attenta, lì c'è tutto il marciapiedi rotto però nessuno vi paga, nessuno si accorge quando cado, fa finta di niente Strade tutte rotte, sporcizze dappertutto, giardino che tagliano ogni 15-20 giorni neanche i palazzi che cadono a terra sono pieni di inquiniti inquinati e coso pieno di scarafaggi, tutto c'è dentro muffa, umidità che non se ne può più in questi casi Chiedete più attenzione? Sì, certo Sono stati anche tanti furti di biciclette anche nelle case Aprono molto le sale di biciclette e tutto, poi guardate i muri degli altri palazzi sono tutti rotti se andate adesso sono tutti rotti Io praticamente sono stata derubata di due biciclette Una era sotto ai garage e una dentro lo scantinato addirittura con la chiave che abbiamo noi residenti attaccata lì, chiusa col catenaccio quindi dentro E non è l'unica? E non sono l'unica Non solo via Penitenti, tutta la zona è un po' in subbuglio, in fermento Proprio perché strade, marciapiedi, verde, aiuole, spazi comuni sono considerati troppo poco curati I cittadini si sentono abbandonati, c'è qualcuno che però segnala problemi che vanno anche oltre L'amianto, è pieno di amianto qua Sai quante volte abbiamo provato a dire al comune ma loro proprio non danno retta, non ci ascoltano Sarà un caso, ma quante persone sono morte qui di tumore? Io sono stata, ho avuto un intervento lo stesso, di tumore Ma quanti ci sono stati casi? Ultimamente ne sono morti quattro, solo nella mia scala E noi abbiamo sul tetto, sotto i portici, abbiamo sono pieni di amianto Ma tutti questi palazzi, non solo il nostro, tutti Grazie